allora buongiorno a tutti e oggi giovedì grasso niente frappe ho fatto i panini gli hot dog buns voi dovete guardare che morbidezza ancora sono caldi però è allora adesso io come al solito sapete che non aspetto che si freddano allora questi li potete farcire con con la salsiccia cioè la cucina di prima salsiccia mamma mia guardate la morbidezza incredibile una piuma allora li potete farcire con la salsiccia con i viusser quelli grandi e poi mettete maionese e ketchup oppure anche il dolce potete mettere che ne so la nutella la marmellata quello che volete io questi non ditemi che scoccio con la mortadella ma io questo lo devo farcire con la mortadella perché il mio panino piace con la mortadella allora ragazzi vi dovete provare assolutamente ecco ma come sono buonissimi morbidissimi e poi vi do la ricetta ecco qua buon appetito a tutti alla prossima